Affidati a dei professionisti del settore, metti al sicuro le tue spedizioni. Fino a domenica 18 dicembre è visitabile presso il complesso monumentale di San Giovanni a Cava dei Tirreni la mostra personale del pittore Atos Faccincani. Esponente della corrente impressionistica, l'artista veronese soprattutto negli ultimi anni ha privilegiato nelle sue opere soggetti come luce, colore, sole e natura e in questa mostra il motivo dominante è il mare. I suoi dipinti sono apprezzabili ogni giorno fino a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21. Ai nostri microfoni il curatore della mostra Gianluigi Bettoni. Questa mostra che ci è stata chiesta dall'amministrazione comunale che ci ospita in questa bellissima location. Diciamo che appunto è stata voluta anche dal maestro Faccincani perché lui dopo aver vissuto dieci anni in costiera amalfitana e aver dipinto diciamo in vari modi tutti gli scorci della costiera che è diciamo amata in tutto il mondo. Infatti poi queste opere che raffigurano la costiera amalfitana il maestro le ha poi esposte nelle sue mostre fatte a New York, a Parigi, a Tokyo, Singapore, ultimamente a Dubai e sembrava giusto al maestro tornare diciamo nella sua terra dove ha vissuto. Queste opere raffigurano quindi da Ravello ad Amalfi a Positano e accanto a queste opere il maestro ha voluto portare anche un po' opere dedicate comunque agli altri scorci più belli d'Italia e del mondo come Portofino, Santorini, Venezia, Cortina. Quindi ecco questa mostra è proprio voluta e studiata dal maestro per tornare un po' alle sue origini perché il Sud lui dice sempre che ha cambiato la sua pittura quindi da questa sua pittura triste frequentando il Sud lui ha cambiato completamente la sua tavolozza ed è giunto a quello che potete vedere oggi che le opere molto colorate che sono sempre un incrocio fra realtà e fantasia e quindi il maestro definito dai critici il maestro della luce, del sole, del colore e questo è il risultato che potete vedere in questa mostra che è aperta fino a domenica.